Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, i carabinieri hanno denunciato tre persone per ricettazione e riciclaggio in concorso. In particolare a Reni, in un'autodemolizione, i militari della locale stazione hanno sorpreso due italiani e un nigeriano di 39 e 49 e 52 anni, abitanti a Venaria, Cirie e Torino, mentre smontavano e catalogavano le parti meccaniche di carrozzeria di una Fiat Panda, una Lancia Y e una Fiat 500L, rubate il 22 settembre sforzo a Torino. Le vetture rubate venivano smontate dalla banda e il materiale veniva probabilmente poi ceduto a carrozzieri della provincia di Torino, che potrebbero aver commissionato i furti. Grazie a tutti!